ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come ho detto dal titolo come ogni giovedì aggiornamento settimanale quindi il periodo di halloween è finito su gt online e ovviamente tornano gli sconti normali e non troverete più i contenuti di halloween proprio insomma dal momento in cui state vedendo questo video quindi come al solito prima iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto lasciate mi piace perché come vedete ogni giovedì vi porto subito nonostante gli impegni il video di aggiornamento settimanale di gt online trovate anche il gruppo telegram più grande italia per trovare giocatori e ho da poco anche aperto un canale whatsapp così se ci volete entrare solamente insomma per aggiornamenti sul mondo di gt online quindi senza perdere tempo il veicolo che trovate sul podio del casino che potete vincere gratuitamente o con la ruota da fortuna infinita facendo il glitch oppure girando la ruota ogni giorno è il mammoth patriot 1000 spec l'hanno aggiunto un po di tempo fa è questo veicolo armato qui e salvo cambiamenti dell'ultimo minuto di rockstar sarà appunto questo veicolo per tutta la settimana stesso discorso invece per l'autoraduno dove troverete il baller st che è questo veicolo qui e questo suv non costa neanche tanto probabilmente non vale la pena neanche prenderlo conviene di più il veicolo del casino comunque dovete arrivare tra i primi quattro nelle gare appunto di inseguimento dell'autoraduno per due giorni di fila per questa settimana invece veicoli di simeon sono il granger 3600 lx la nagasaki shinobi l'hobe iwagon la astron e la western river che adesso vi farò vedere la invece da luxury autos trovate la dubashi champion e la enus jubilee questi due veicoli che potete acquistare direttamente siamo adesso alla parte che interessa a tutti perché per quanto riguarda gli sconti questa settimana abbiamo la penod la curose che è un veicolo che stanno scontato da un po di tempo comunque scontato del 30 per cento in seguito abbiamo la enus jubilee come vedete scontata in questo caso del 40 per cento la dubashi champion scontata sempre del 40 per cento e poi ragazzi abbiamo la coil voltic scontata del 50 per cento insieme al bravado yoga classic scontato del 50 per cento ultimo veicolo scontato è la western river questa moto qui che è scontata invece del 40 per cento quindi sono solamente questi veicoli che appunto sono scontati questa settimana fino a giovedì prossimo ovviamente in caso di cambiamenti ve lo scriverò appunto nei commenti però come vedete nulla di particolare ci sono giusto un paio carini tipo la champion che vi consiglio di acquistare per il resto insomma nulla di eccezionale per quanto riguarda i business questa settimana rockstar games ha deciso di inserire sconti su tutte quante le agenzie quindi sono queste qua cerchiate le potete acquistare a un prezzo scontato del 40 per cento quindi assolutamente da prendere perché comunque per fare soldi anche con il contratto di dr dray che vi da un milione ogni volta che potete ripetere ogni volta è tanta roba poi ci sono anche altri metodi per fare soldi che adesso andiamo a vedere e in più abbiamo ovviamente tutte quante le modifiche con anche l'officina dell'agenzia di mani scontata invece del 30 per cento quindi assolutamente mettete anche l'opzione di mani perché appunto anche questa settimana le robe di mani sono scontate appunto del 30 per cento sarebbero delle modifiche esclusive che potete fare nell'officina dell'agenzia quindi assolutamente l'agenzia vi ripeto da comprare se non ce l'avete ma credo che oramai di questo passo ce l'abbiano tutti però se vi manca ragazzi assolutamente da prendere soprattutto a questo prezzo quanto riguarda i soldi bonus invece di questa settimana abbiamo soldi ed rp doppi su viaggi sballati che sarebbe l'attività che trovate tra le missioni quindi opzioni online attività abbi attività create da rockstar missioni trovate le missioni viaggi sballati in cui siete dovete essere in due uno fa franklin e uno fa la mar sono se non sbaglio quattro missioni pagano circa 50 mila dollari per ogni missione e se non l'avete mai fatto vi consiglio di farle visto che sono contenuti riciclati dalla storia e sono per quel motivo fatte veramente bene sono molto carine poi ovviamente abbiamo tutti quanti i contratti confidenziali dell'agenzia quelli là che si avviano andando al computer dell'agenzia i registrati tramite ceo o mc avviate il contratto confidenziale pagano dai 60 ai 90 mila dollari dipende quello che vi esce insomma e ci mettete veramente poco quindi assolutamente ragazzi per fare soldi questa settimana contratti confidenziali a manetta almeno a mio avviso sono i migliori e poi abbiamo soldi ed rp tripli sulla modalità competizione hunting pack remix che è una modella competizione un po vecchia non la scontano la ammettevano con bonus da un po di tempo però se volete provare a farla lo potete fare tranquillamente anche se ci sono pochi giocatori che ultimamente giocano queste attività però se volete fare soldi ragazzi contratti confidenziali questa settimana mi raccomando a si fatevi sapere cosa ne pensate di questa settimana spero che il video sia stato utile ringrazio veramente tanto per la visione e noi ci vediamo al prossimo video